per l'eliminazione dell'obbligo della certificazione verde, anche in relazione alla prevista cessazione dello stato di emergenza. La deputata Ilenia Lucaselli ha la facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è confirmataria. Prego, collega. Grazie, Presidente. Ministro, per due anni interi, a cadenza trimestrale, è stato prorogato lo stato di emergenza e con esso abbiamo assistito anche al progressivo inasprimento delle misure sul Green Pass. Ora, Ministro, è chiaro a tutti che il Green Pass non serve per bloccare la circolazione del virus. Evidentemente soltanto a lei questo non è chiaro. Ed è talmente tanto poco chiaro anche a lei che nel DPCM del 2 marzo avete continuato a prorogare, per chi conclude il ciclo vaccinale, la validità del Green Pass per una durata di altri 1080 giorni. Cioè voi continuate a calpestare i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani nel silenzio totale del Governo. Questo, Ministro, è un fine pena mai e invece noi oggi le chiediamo di chiarire quando tutto questo per gli italiani finalmente si potrà dire passato. Grazie. Grazie, l'Onorevole Luccaselli. Le risponde il Ministro della Salute, l'Onorevole Roberto Speranza. Prego. Sì, grazie. Voglio ricordare a quest'Aula che il Green Pass ha rappresentato un pezzo fondamentale della strategia italiana di contrasto al Covid. Credo che i numeri siano eclatanti e segnalino anche l'impatto, diciamo, di queste misure nel nostro Paese. A stamattina alle sette il Green Pass è stato scaricato nelle tre diverse fattispecie, quindi per guariti, per vaccinati o anche per test negativo, 262 milioni di volte. Il numero dei vaccinati nel nostro Paese è tra più alti d'Europa e dell'intero mondo. Il 91,31% delle persone sopra i 12 anni ha avuto una prima dose. L'89,64% delle persone sopra i 12 anni ha avuto anche la seconda dose. Lo ribadisco, sono numeri tra i più alti d'Europa e del mondo. Proprio ieri Anthony Fauci, una delle principali personalità del mondo scientifico statunitense, ha richiamato i risultati importanti ottenuti dall'Italia. E voglio anche ricordare che stamattina siamo a 38 milioni, 266 mila, 573 dosi. Grazie a questi strumenti che noi abbiamo messo in campo, compreso l'utilizzo del Green Pass, che è stato uno straordinario incentivante rispetto alle vaccinazioni, noi siamo riusciti ad attraversare la stagione dell'autunno-inverno senza chiusure generalizzate. Questa è la verità fuori da ogni propaganda. Altri importanti Paesi con meno vaccinati di noi sono stati costretti a misure molto più dure. L'Olanda per molte settimane ha chiuso bar e ristoranti, l'Austria ha fatto il lockdown, la Germania in molte regioni ha fatto forme di lockdown. Se noi siamo riusciti sostanzialmente, siamo a pochi giorni dalla fine dell'inverno e dall'inizio della primavera, ad attraversare questi mesi che sono tradizionalmente i più complicati, senza chiusure generalizzate, è perché abbiamo un livello così alto di vaccinati che è stato anche conseguenza di un utilizzo robusto del Green Pass. Proprio nella giornata di domani ci sarà un Consiglio dei Ministri. Questo Consiglio dei Ministri definirà un cronoprogramma puntuale di accompagnamento all'uscita dallo stato di emergenza. Lo stato di emergenza non verrà rinnovato e noi offriremo un percorso, come sempre, basato sull'evidenza scientifica e sul quadro epidemiologico. In chiusura mi faccia ancora ribadire che se siamo in una fase nuova è prima di tutto grazie alla campagna di vaccinazione e su questo dobbiamo continuare ad insistere. Milioni di persone devono ancora fare la terza dose, alcune persone devono ancora fare la prima dose. Ogni vaccino in più somministrato è uno scudo che ci consentirà di rendere il nostro Paese più forte. Grazie. Grazie Ministro Speranza. Le replica il Deputato Bignani. Prego. Grazie Presidente. Il 22 luglio il Presidente del Consiglio Draghi ebbe a dire che con il Green Pass gli italiani avevano la garanzia di trovarsi tra persone non contagiosi. Fratelli Italia immediatamente sollevò delle perplessità, quantomeno per l'imprudenza di quell'affermazione. Ma subito le Virostar, con piaceri potenti di turno, iniziarono a dire che cosa ne capite voi non potete parlare. A quella data vi erano stati 4 milioni di contagi nei 18 mesi precedenti che erano stati più aggressivi purtroppo della pandemia. Nei sette mesi successivi abbiamo avuto 9 milioni di contagi col Green Pass, più del doppio in meno della metà del tempo. Ci dice anche oggi che col Green Pass si è potuto indurre una vaccinazione di massa. Una precisazione, Ministro, noi siamo per il vaccino, ma non lo confonda col Green Pass che è un'altra cosa. Ma nonostante questo, noi evidentemente negate che nazioni come Irlanda, Spagna, Portogallo hanno ottenuto risultati uguali, se non migliori, senza avere lo strumento del Green Pass. Neanche oggi, benché il Presidente Draghi abbia detto il 18 di febbraio che di lì a qualche giorno avrebbe presentato un piano per l'uscita dal Green Pass, ci dite quali sono questi piani di uscita. Salvo però il 2 di marzo ad ere emanato un DPCM, non un decreto perché in aula non avete il coraggio di venire, con cui avete esteso di tre anni la vigenza del Green Pass. Siete velocissimi quando si tratta di comprimere le libertà personali degli italiani e lentissimi quando si tratta di liberarle queste libertà o di dettagliare le accise, di tagliare le bollette o di rilasciare le storie. E allora, Ministro Speranza, il Trattato d'Italia le dice qual è l'unica cosa da fare. Abrogare immediatamente il Green Pass perché l'ultima emergenza che è da superare in Italia è lei e questo Governo. Grazie.